Oxfam lotta contro la fame, aiutando milioni di donne nel mondo, perché sono le donne che danno cibo alla famiglia e all'intera comunità. La sfida è difficile, è per questo che il Giro d'Italia ha scelto di sostenere Oxfam. Impegnati anche tu, manda adesso un sms al 45501. 45501 Oxfam, con le donne per vincere la fame.